Siamo con Marco Bentivogli, segretario generale FIM, CISL e autore del libro Controordine Compagni, una guida che tra l'altro parla del tema del ruolo del sindacato del futuro. Grazie innanzitutto per averci raggiunto. Grazie a voi. A proposito del ruolo del sindacato, le sfide della globalizzazione delle nuove tecnologie impongono una rivoluzione della funzione del sindacato. Che cosa deve fare per non perdere la centralità rivestita nel secolo scorso, nel 1900? Sta cambiando il lavoro non in maniera marginale, sta cambiando in modo profondo, cambiano le produzioni, sta cambiando l'ecosistema attorno al lavoro. Anzi, quando non cambia rischia di creare problemi sia al lavoro che alle produzioni, sia alle persone, sia alle possibilità di sviluppo. Per questo il sindacato deve mutare rapidamente il proprio ruolo. È stato molto forte nella capacità di protezione delle persone. Oggi deve maturare una nuova capacità di promozione delle persone. Serve la necessità di difendere la professionalità delle persone, fare in modo che sia acquisita. Noi per questo sosteniamo il diritto soggettivo alla formazione, cioè in qualsiasi contratto di lavoro ci deve essere la formazione per ogni lavoratore. Una delle misure adottate dal governo per contrastare la crisi è stato l'arredito di cittadinanza, di cui possiamo già stilare un primo bilancio. Non abbastanza però è stato fatto per il rilancio delle imprese e delle aziende. Lei quale ricetta suggerisce? Io credo che per battere la disoccupazione bisogna creare lavoro. Intervenire sui sussidi rischia di creare problemi, rischia di non incentivare le realtà produttive, industriali e non solo, che possono creare il lavoro. Il nostro è un paese che complessivamente funziona male, crea più difficoltà che opportunità a coloro che vogliono creare imprese e creare lavoro. Bisogna semplificare e fare in modo che il paese incoraggi la creazione di lavoro. Il reddito di cittadinanza ha una platea assolutamente ridotta, proprio perché innanzitutto c'è un discrimine fondamentale tra veri poveri e falsi poveri, che molto spesso il governo non ha fatto. E soprattutto bisogna fare in modo che gli agganci tra la domanda e l'offerta di lavoro vengano fatti in maniera intelligente, e non attraverso delle istituzioni pubbliche che ancora non ha una grandissima necessità di riforma. La ringrazio, grazie a Marco Mentivogli per essere stato con noi. Io vi restituisco la linea.